ecco c'è un altro appassionante capitolo che andrei ad aprire proprio adesso perché quello dedicato al calcio mercato con sandro sabatini sandro c'è uno sprint per caio giorgi siamo lunedì chiellini firma il rinnovo del contratto o almeno si incontra per firmare il nuovo del contratto magari lunedì trova anche questo ragazzino caio giorgi classe 2002 perché lunedì potrebbe già essere a torino questa è l'intenzione della juventus questa è la trattativa che la juventus sta portando avanti con il santos dopo aver raggiunto l'intesa con il giocatore anticipando la concorrenza di altre squadre anticipando anche i tempi perché si scoprono retroscena non è che la juventus è intervenuta su caio giorgi negli ultimi tempi ma addirittura risale le prime relazioni risalgono a quasi due anni fa un anno e mezzo per la precisione caio giorgi nella notte non ha giocato una partita con il santos della coppa brasiliana e quali sono gli ultimi intoppi che comunque caio giorgi non vuole andar via alla donna rumma tra virgolette cioè senza consentire al santos un po di guadagno sul suo cartellino e quindi la juventus sta trattando sta offrendo due milioni il santos ne chiede cinque credo sia facile immaginare un accordo a breve manuelo locatelli siamo alla certa finale locatelli sia scaio giorgi assomiglia un po a pato ecco il pato prima maniera del milan su locatelli anche qui l'accordo è praticamente in via di definizione ma non oggi l'appuntamento continuano con contatti telefonici e la valutazione resta di 40 milioni si tratta sulla sulle modalità di pagamento non ci saranno giocatori in contropartita il sassuolo per sostituire locatelli sta prendendo matteo senrique del gremio che sta facendo le olimpiadi e grazie grazie